L'ospite della puntata di questa settimana del Sasso nello Stagno sarà Mara Ardizio che dal 26 febbraio scorso è presidente regionale delle ACLI, l'Associazione Cristiana dei Lavoratori Italiani del Piemonte. Tra l'altro Mara Ardizio è la prima donna presidente regionale nella storia delle ACLI della nostra regione, è originaria di Belinzago, ha una lunga esperienza, una lunga biografia all'interno del movimento ACLI. Parliamo con lei perché è la prima donna che arriva a ricoprire questo importante incarico e poi anche perché quest'anno ricorrono gli 80 anni della fondazione delle ACLI, un movimento nato in Italia all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, è nato proprio per costruire l'Italia anche sotto un profilo murale, quindi aiutare gli italiani, i lavoratori, le famiglie, a riconoscersi in una nuova Italia con valori profondi, i valori cristiani, perché questo dice proprio la sigla, l'Associazione Cristiana dei Lavoratori Italiani. Con lei quindi parleremo di cosa sono le ACLI, dei circoli, del patronato, dei corsi di formazione dell'ENAI, delle tante attività che questa associazione svolge anche nella nostra provincia del Verbano Cusiostola e in quella di Novara. A più tardi quindi con la nuova Presidente delle ACLI regionali del Piemonte.